Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video che, palesemente, sto registrando su tutti gli acquisti, ma va bene. Oggi vediamo quali sono state le mie letture di ottobre, vi dico già che di alcune non ricordo più niente, ma va bene lo stesso. In tutto ho letto tipo 17 libri, però vabbè, erano brevi, c'erano la graphic novel, 5 erano in ebook, ma adesso vedrete, cioè non sono letture impegnate a dire, ecco, per questo sono arrivata a questo numero. Tra l'altro mi rode tantissimo perché c'è stato un fail, nel senso che io volevo leggere una trilogia tutta di seguito per fare un video, in realtà poi non l'ho fatto e la trilogia è mancola finita, ok? Benissimo, 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 vado a piangere. Detto questo, vediamo subito velocemente i libri che non ho qui fisicamente perché li ho letto in ebook e non ce li ho in cartaceo, non mi ricordo nemmeno gli autori, detto proprio sinceramente, però va bene lo stesso. Allora, uno è Caccia alla grande volpe, ecco, tre quarti di questi libri in realtà li avete già visti se avete visto il vlog della challenge perché ovviamente questi sono, ci sono anche altri però, cioè di base, no? Alcuni sono quelli. Allora, ho letto ovviamente Caccia alla grande volpe di, boh, non me lo ricordo, che parla di questa ragazzina disabile perché ha una protesi alla gamba che sostanzialmente decide di entrare in questo show, mettiamola così, per giovani maghi, inteso come illusionisti, perché c'è tutto un discorso di un trucco di suo padre che in teoria è stato rubato, però forse in realtà no, e quindi così. Non mi ha fatto impazzire, ci sono stati dei punti che ero tipo, non mi sembra molto logico tutto ciò, ma va bene, quindi non penso appunto che lo comprerò meno che non lo trovo tipo a un euro o due, che dico vabbè, ok, però se ci fosse un seguito penso che lo leggerei, sempre preso magari su un lol dalla biblioteca, insomma. Poi ho letto Rughe di Grossman, mi pare, che è una cosa piccola, piccola, illustratissima, con quattro righe in tutto forse, che parla di questo ragazzino che chiede al nonno che cosa sono le rughe sostanzialmente, cosa sono questi inifaci, sono le rughe, sono legate a cose. È una storia molto tenera, molto dolce, questo mi piacerebbe averlo, dire il vero, sì, però cioè non lo comprerei nuovo, ecco. Poi ho letto, anche questo non mi ricordo chi l'ha scritto, il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, una cosa sottilittissima, che parla di amicizia fondamentalmente, di questo bambino, di questi animali, sono, io oserei dire, frasi motivazionali in realtà, però abbinate ai disegni sono anche molto belle, ci sta. Poi mi è piaciuta molto Dirty Dragon Society, questo è il primo volume di una trilogia che prima me ne leggo tutte in ebook, poi vedo se comprarla anche proprio in cartaceo, perché il primo volume mi ha piaciuto un sacco, anche i disegni sono molto belli, parla di questa... beh, non è una persona in realtà, quindi, boh, di questa protagonista, Greta, che è un, non so bene che cosa, nel senso, non è... sono cose antropomorfiche, antrop... con le fattezze umane, ok? Ehm... è una creatura particolare, insomma, una creatura che si chiama Greta e fa l'apprendista Fabro, ok? Bene. E in sostanza scopre che esiste questa... società di draghi delle foglie del tè, cioè sono questi draghi sulla cui testa cresce una piantina di tè o di altre erbe in sostanza, e... e queste foglie, vabbè, si raccolgono dal brughettino e si fa il tè, normalmente. Ehm... devo dire che mi è piaciuto molto, è una creatura proprio confortevole, esattamente come una tazza di tè, eh... mi è piaciuto un sacco e... e quindi voglio leggere i seguiti, insomma, poi se, appunto, mi... mi piacciono anche i seguiti, voglio prendere, ovviamente, il... il cofanetto con tutti i tre i volumi, perché è proprio bello. Ehm... invece non mi è piaciuto per niente Mooncakes di... non ve lo ricordo, eh... so che... ne parlavano tutti bene, ma... prima non ho capito cosa c'entra il titolo, sinceramente, boh, mi sento stupida, ma... non lo so. E... e poi... cioè... ok, ok, parla di queste due ragazze, di cui una è praticamente muta forma lupo, e l'altra è una strega. E... di cui... tutto normale, nel senso... Ehm... la ragazza vive con... Un momento... la ragazza strega vive con... La nonna? Con le nonne. O le zile? No, le nonne. Mi sembra le nonne. Ehm... vabbè, insomma. Ehm... fondamentalmente scopre che c'è qualcosa... viene a sapere da... da gente, che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano Eh... del bosco, e praticamente scopre che è tornata questa sua amica, e che questa sua amica sta Indagando su questa cosa strana nel bosco, e ovviamente indagano insieme, scoprono che cos'è Eh... scoprono che tutto è legato alla sua amica, ma voglio dire Mh... scusate lo spoiler Ehm... Cioè, io capisco l'interesse amoroso, vi conoscete comunque da tanto, l'amore a prima vista, tutto quello che volete, cioè, non mi interessa. Però voglio dire, non ti vedi da 200 anni, e tre secondi dopo siete già lì, che inciuciate Mh... ok Mh... ok Ehm... e poi, vabbè, in un altro momento, appunto, quando si capisce che questa cosa qui è legata a quella ragazza Eh... no, mi raccomando, tu non ti preoccupare, ci pensano che tu stai nella tua stanza, sta lotto e non uscire E ti devi riprendere, ovviamente questa esce Palese, banale, banana, banana, e naturalmente viene fregata malamente, perché, logicamente, no? Cioè, è imprevedibile come il fatto che se apri il rubinetto esce l'acqua Cioè, vabbè, 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 non... vabbè Ho risparmiato soldi, per carità, perché questo lo volevo comprare, ma per fortuna non l'ho fatto Passiamo invece adesso, dopo 256 anni Ehm... faccio così perché sto qua con il timer su, però vabbè Ehm... passiamo adesso alle letture cartacee, che non vi mostrerò in ordine di lettura, ma Eh... le ho raggruppate Per cose Eh... le prime tre sono In realtà due graphic novel e una no, però facciamo finta di sì E sono collegate in questo modo Allora, questo qui è Literary Witches, che è, vabbè, in realtà la guida ai tarocchi Il doraco, il là, che cos'è quel mazzo di carte che ho, letterario Ehm... in ogni pagina c'è in sostanza la spiegazione della vita della persona dell'autrice Eh... eventuali opere importanti E qui, se ne ho capito male Eh... più o meno la cosa è collegata alla sua carta fondamentalmente Eh... cose legate comunque alla sua vita E anche cose un po', diciamo, oniriche e roba del genere Eh... che ne spiegano un po' il significato anche dei disegni che ci sono sulla carta stessa, no? Tipo questa, chi è? Chi sei? Chi sei? Sandra Fisneros Ok, io tre quarti non li conoscevo, non dico la verità Però, va bene Ehm... vabbè, è quello che è, voglio dire, è una guida alle carte fondamentalmente, no? Però, nel complesso è interessante Non mi ha fatto impazzire, ma nel complesso è interessante E adesso la vera domanda è io Dove lo poso? Lo poserò Ehm... Poi, sempre legato a quello Perché di fatto è la vita dell'autore Di Alberto Maldegal, pigiama, computer, biscotti Che parla di come è cambiata la sua vita fondamentalmente da quando è arrivata la creaturina E io mi sono tanto rivista in lui Perché, ovviamente, queste piccole creature sono belle, sono dolciotte Ma ti stravolgono la vita E io vorrei che questo lo leggessi anche Joe Perché, ovviamente, essendo il punto di vista di un padre Magari, forse, potrebbe tornare di utile, no? Però mi è piaciuto tanto Quindi ringrazio Pami che me l'ha consigliato E sono stata contenta di averlo accattato Perché ci sta tutto E' tutto, ovviamente, in scala di grigi, così Però è ci sta E ci sta, veramente, in italiano, è ci sta Rimanendo sempre il tema Bao e Graphic 9 Questa volta sono tre racconti Che si rifanno alla leggenda O mitologia giapponese Non aprire mai di Ken Niimura E questo mi è piaciuto un sacco Sono appunto tre racconti, come ho detto E mi sono piaciuta Boh, cos'altro posso dire Io ve li racconto tutti Ma sono brevi, quindi non ha senso Però vi faccio vedere il tratto E, vabbè, ecco Il tratto forse è un po' Neh, vabbè Sul tratto si poteva fare anche un pochino meglio Probabilmente Però, però, vedete che poi Quando c'è il momento clou Spara fuori questo rosso E così La seconda mi ha fatto un sacco ridere Come vi ho detto anche nel vlog Perché erano buffissimi Quei due col ventaglio E la terza veramente è tenerissima La prima, ecco La prima mi sembrava un po' scontata All'inizio Però poi c'è stato quel Twist, no? Verso la fine Che me l'ha fatto apprezzare Invece abbastanza parecchio Abbastanza parecchio In italiano proprio E, niente L'altro due invece mi sono piaciute proprio subito Quindi, ottimo così La cosa assurda è che questo qui è Ah, ok, il disegnatore di Kill Giants Non, ok, ok No, perché stavo dicendo Ma anche Kill Giants Mi sembra che sia quello della ragazzina Che però non mi era piaciuto Però, cioè Ok Vabbè No, stavo dicendo Non è possibile che Quel libro non mi sia piaciuto E questo invece mi è piaciuto un sacco Perché questo invece prende Storie popolari Ok Vabbè Poi rimaniamo sempre Nell'ambito Dei libri illustrati Mettiamola così Ma passiamo proprio ai libri E qui ho letto Il seguito di Tilly Con il secondo volume Tilly e le storie da salvare E il terzo volume Tilly e le pagine dimenticate Di Anna Jane Entrambi, ovviamente E quindi questi sono Illustrati Adesso ovviamente Quando ci sono illustrati Non si luca fuori Manco un disegno Se lo paghi Ok Nel primo volume Erano successe cose Tali per cui C'è stato un po' di scompiglio Alla sottobiblioteca E adesso ci sono In arrivo Grossi cambiamenti Che però Tilly Non gradisce particolarmente Quindi con Oscar Cerca un po' di capire Che cavolo sta succedendo Si scoprono cose Naturalmente E nel terzo in particolare C'è una specie di caccia al tesoro Che Mi è piaciuta molto Come idea Come cosa E vabbè Non posso dirvi tanto Perché se no Rischio veramente Di farvi spoiler Sia su questi volumi Che sul primo Quindi mi taccio Però Devo dire che forse il primo Mi ha accetto di più Perché Spiegava di più questo mondo E era un pochino più tranquillo Questi mi hanno messo un po' Di ansietta Tra virgolette Perché i cattivi Sono proprio antipatici Ecco Il nervoso Perché l'ansietta è nervoso I cattivi I cattivi sono Prendi antipatici E E niente Li ho trovati anche un pochino lenti Come introduzione alla storia Ma forse è stato un problema mio In realtà Poi invece alla fine Ecco tipo questo qui Ho fatto un po' fatica Arrivare a metà La seconda metà Me la sono sparata tutta In una sera Che mi nerva Dormiva C'è andato a dormire presto Quindi me la sono sparata tutta Questa anche Mi è piaciuta molto di più In una parte Piuttosto che in un'altra Però vabbè Questo penso che sia Normale nelle storie Non è che sono tutti Pari merito Come livello Le cose Io continuo a darvi le spalle Perché sto appoggiando i libri Là dietro Ma va bene Rimanendo sempre in tema Di librerie e magie La libreria magica Di poppi Di Mindy Thompson Che mi è piaciuto Un sacco Anche questo Peraltro sono tutti e tre Della garzante Tutti e tre Della collana Libreri belli Perfetto Questo mi è piaciuto All'inizio era un po' Sunni Però in realtà Postumo mi è piaciuto L'unica cosa Che non è niente Di quello che io ne aspettavo Perché insomma La libreria magica Di poppi Per come me lo descrivi Io penso che boh Tipo la gente viene lì E tu magicamente Trovi il libro adatto Da consigliare In realtà Forse in parte È anche così Però non è questo L'ambito che viene sviluppato Cioè non chi se ne frega In realtà È tutto un discorso Basato sul fratello E l'amico del fratello Che purtroppo muore in guerra E quindi C'è una specie di Se così vogliamo Un patto col diavolo Tra virgolette Più che altro Un patto con l'oscurità E la libreria Che cerca invece Di mantenere questa oscurità Un po' fuori Tipo vai via Vai via tutta lì La magia Sei brutta Fai schifo Togliti E invece però Ci sono cose Che non quagliano E questa oscurità Piano piano Inizia proprio A essere molto ingombrante E la ragazzina Ha Non si sa per quale motivo Si scopre Ha questo legame particolare Con questa libreria E niente Cioè io mi aspettavo Appunto discorsi di libri Non discorsi di guerra Ma va bene lo stesso Diciamo Quel punto di vista lì È un po' Però in realtà È molto bello Molto carino Molto tenero Tanto carino cucolino Quindi sono contenta Comunque di averlo Letto E di averlo Carpaccio Perché insomma È proprio bello Poi sempre su libri Che parlano di libri Ma ci spostiamo Nella zona Libri con la copertina gialla Questo giro va così Libri con la copertina gialla Di David Levitan Ancher's in the pages Questo è un libro Che praticamente Si sviluppa su tre Fronti Mettiamola così Che ovviamente Sono collegati fra di loro In un certo senso Anche un po' Prevedibili Da un certo punto di vista Però va bene In un senso Si capisce poi verso la fine Praticamente c'è questa scuola E l'insegnante propone Ai ragazzini Di leggere un certo libro Solo che La madre di uno di questi ragazzini Inizia a rompere i maroni A dire No Non si può leggere Questo libro qui Perché Non mi piacchino Non si sa bene Cosa che si fa Lei nella testa Perché non esistono Non è previsto Ma anche se fosse previsto Chi si affrega Perché No E quindi inizia a rompere Le balle a scuola Per dire No Dovete togliere questo libro Una delle tre storie È di fatti quella del libro Che praticamente ci porta a capire Che la madre è un imbecino Ma fa bene Ma vabbè E quindi niente In sostanza Si deve fare una specie di Tra virgolette Processo Non chiamola così Al libro in questione Viene fatta una seduta Dove ci sono Pro e contro Genitori Che dicono Perché non devono essere letti Questi libri Perché bisogna Accogliere questo libro E dall'altra parte Che invece cerca di difenderlo Con ovviamente Votazione finale E vabbè È un libro Che va contro la censura Naturalmente È tema LGBT E mi è piaciuto tantissimo Tantissimo Sono tanto contenta Di averlo letto È bellissimo E mi piace un sacco È solo teneri Ovviamente parlo di protagonisti Poi Altro copertino Altro copertino Con la libra gialla Finalmente Ho letto L'Atleta Senza memoria Di Paolo Foschi Ce l'ho fatta E da gennaio Come lo porto dietro Non so quante volte Ho detto che l'avrei letto Ma finalmente l'ho letto Peraltro L'ho anche divorato Quindi ci sono Proprio imbecille Perché Non so per quale motivo Me lo sono portata così avanti Ma va bene Non fa niente Parla di Questo ragazzo Che è ovviamente Un atleta Ed è senza memoria Perché Mentre lui tornava a casa Per i fatti suoi È stato colpito E quindi E quindi Lo Young Team Torna in carica Torna In azione Per cercare di capire Che cosa effettivamente È successo Perché se la sono presa con lui Che tecnicamente Risulta come un ragazzino pulito A posto Perfetto Bravissimo Eccetera eccetera Devo dire questo O io ho problemi Con le introduzioni Nei libri O c'è qualcosa che non va Nel senso che Viene tanto perso tempo Cioè viene perso tanto tempo Per dire questi Erano gli O Young Team Che si sono trovati Quella volta Che hanno fatto Così e cosà E babbini Favi una sintesi Però Paolino Bello Dai Favi una sintesi Di quello che è successo prima E poi arriviamo Al punto clou Invece secondo me Dal mio punto di vista La parte Diciamo Intricata Del mistero Viene Svolta in maniera veloce Nel senso Non si indaglia tantissimo Ecco Cioè è abbastanza rapida O Io non mi sono accorta Delle pagine che volavano Però Secondo me È un pochino Un po' picco Cioè avrei preferito Magari poca introduzione Poco 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 spiegare Di chi è L'O Young Team Perché voglio dire È un seguito Quindi di base Tecnicamente avresti anche letto Quello prima Quindi lo sai E voglio sapere Della storia di adesso Di cosa stiamo Effettivamente parlando Invece mi è sembrata Relegata proprio a poche pagine Però vabbè Nel complesso mi è piaciuto In alcuni punti In realtà Secondo me scatta Un po' troppo velocemente Tra una cosa e l'altra E Boh Forse mi sono persa il passaggio Io non lo so Comunque Mi è piaciuto Cioè nel complesso Mi è piaciuto E se mi esce un altro libro Quello Young Team Io lo compro Paolo Però se mi esce anche Quelli di Attila Io compro anche quelli Paolo E Paolo Su Esce gli libri Paolo Stai Stai E poi in ultimo Rimanendo sempre il tema Di libri illustrati O libro con la copertina gialla Di Stephen King E Richard Chismar La scatola dei bottoni Di Wendy E la prima magica di Wendy Questa era una lettura Questo dice no E tecnicamente Io volevo leggere anche L'ultima missione di Wendy Ma ne sono arrivata Un po' lungo sui tempi È finito il mese E non ce l'ho fatta E quindi Fail Perché appunto Questa era la trilogia Di cui volevo fare un video Ma vabbè Non fa niente Pazienza Allora Non mi ricordo Quando l'avevo letto La prima volta Che cosa esattamente Ne avessi pensato Cioè Sicuramente mi era piaciuto Perché si è ottenuto il libro Però Adesso È molto sul nì Nel senso che Non ero particolarmente Interessata alla storia Però C'era qualcosa Che mi teneva attaccata Alla storia No? Cioè Non so come spiegare Non so se avete presente Quei libri che Vi lasciano Quella sensazione Di disagio Di Sì io voglio saperlo Però mi sento un po' fuori luogo Non voglio Cioè Mi 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 Ma quelle cose Che fanno chiudere il libro E dire No non lo so se lo voglio sapere Perché mi è un po' scomodo E E E niente Allora scusate Ho stata interrotta Da una chiamata E non mi ricordo più Che cosa stavo dicendo Piaggio Piaggio So che stavo parlando Di questi libri E Vabbè Stavo dicendo Probabilmente Penso Che La storia in sé Non mi intrigava particolarmente Però avevo quella curiosità Ma nel contempo C'era questa atmosfera Tal per cui Sì Volevo sapere che cosa succedeva Ma nel frattempo Mi sentivo anche un po' Scomoda Nella storia No? Cioè Quelle cose che Non me lo dire Non me lo dire Non me lo fare Non me lo fare E va Così In particolare Pagare in tutto ciò Perché non è che puoi avere Proprio tutte le gioie Di questo mondo E devo dire Che ci sono dei momenti Molto cupi Dei momenti Molto creepy Dei momenti Un po' Che schifo Stavo con gli occhi Senza descrizione Qua invece Piccolo spoiler Se poi vediamo La scatola viene poi Restituita Qua siamo anni dopo Wendy ha Quasi 40 anni ormai Qui era una ragazzina Che doveva iniziare il liceo Fondamentalmente Qui ha quasi 40 anni Sta entrando nel mondo politico E le cose Per il momento Le sono andate anche Abbastanza bene E questa parte Del mondo politico Prende tanto piede Cioè In realtà Sembra quasi Che non succeda niente Però tu senti Un po' di ansietta Addosso Soprattutto quando Poi lei un giorno Nel suo ufficio Si trova Il segno Che la scatola Is back E quindi Inizia avere anche Un po' d'assietta Anche lei Poi nel frattempo C'è il marito Che è fotografo In una zona Un po' Pericolosa Un po' Momentata Quindi c'è anche Questo discorso Che tu non sai Se questo marito Tornerà oppure no Cioè ti viene l'ansia Che dici Ma torni o non torni Cioè Ce la fai o non ce la fai E quindi insomma Beh Così E quindi Voglio sapere Che cosa succede Nel terzo libro Però in realtà Non lo so Se lo voglio leggere adesso E quindi Togliermi questo problema Oppure Aspettare un attimo Non lo so Non lo so Perché comunque Dico sì È interessante Lo voglio sapere Però C'è sempre qualcosa Mi frena Perché appunto La storia è un po' Noiosa Che è un controsenso Perché è veloce Cioè non so neanche io Come dirvelo esattamente No? Cioè non lo so Vabbè È quel noioso Che però ti invita A voler andare avanti Un po' come una torta Che sì Non sa tantissimo Di qualcosa Però hai lì La mangi Perché è una torta È buona Un po' come l'avocado Ecco l'avocado Non ha questo gusto forte Però è buono E vabbè Certo non è cioccolato Ma vabbè Non tutto può essere cioccolato E detto questo Però invece Queste sono state Le mie letture di ottobre Come sempre Io ho cioccolato Per secoli E non so neanche Se si abbia capito Che cosa ho detto Ma va bene Fa niente Fatemi sapere Voi cosa avete letto Se avete letto Qualcuno di questi libri Se qualcosa vi intriga Se ne avete qualcuno Di questi da leggere E E quale è il vostro Cioccolato preferito Ecco queste sono cose Importanti da sapere Detto ciò Noi ci vediamo Alla prossima Ciò E no Non è vero Scusate Sono tonta Sono tonta Ho dimenticato di parlare Di questi due libri Perché li avevo messi da parte Per un video Ma vabbè Niente Sono in realtà L'arte dei giochi da tavolo E la grande storia Della scrittura Questo di Vitali Konstantinov Konstantinov Non lo so E Adrilan Sevilla Questo Ripercorre la storia Dei giochi da tavolo Principalmente Partiamo dal gioco Dell'oca E da lì Come si sono sviluppati Poi i tabelloni Nel tempo Ma sono quasi tutti simili Comunque interessante Il fatto che Venivano riportare Un po' Diciamo Le cose importanti Nell'epoca in cui Venivano creati E Alcuni erano istruttivi Quindi nelle caselle C'era magari Qualche elemento di storia Qualche elemento di geografia Altri cercavano Di andare un po' Sulla morale Altri invece Erano proprio L'azzardo Mettiamola così E Alcuni avevano Tabelloni abbastanza chiari Altri un po' più complicati Vi dico che Da questo Ho tirato fuori L'idea Per il TBR game Dell'anno prossimo Che mia zia Mi ha prontamente creato Ve lo spoiler Aspettate Ve lo spoiler Fino a un certo punto Però Perché qui E qui E qui Molto meno ingombrata Di quello di adesso Lo vedremo già In azione a dicembre Così ho modo di testarlo Sulla pratica E vedere un po' Se funziona Ma Ma sì Ma sì Cioè ce l'abbiamo Bellissimo E qua invece Ripercorriamo appunto La storia della scrittura Che Come ho detto nel video In cui Ne parleremo poi bene Mi è piaciuto È molto interessante È fatto bene L'unica cosa Che il formato E la pagina molto piena Per un tratto Mi hanno un po' confusa Mi stancavano parecchio Infatti non riuscivo a leggere Più di poche pagine al giorno Mi sembrava di leggere Chissà quanto Invece Tipo guardavo Solo sei pagine Ci sono spaventi una vita Però Nel complesso Sì mi è piaciuto Molto interessante Soprattutto perché Ripetiamo per la 150esima volta Ci sono gli schemi vari Con tutti gli alfabeti E niente Questo è davvero tutto E basta Aspetto le vostre info sul cioccolato Ciao